Quello che indossano queste donne è un disegno del Settecento, per la precisione progetti conservati in biblioteca civica, a firma dell'architetto veronese Luigi Trezza. Un designer contemporaneo a sua insaputa. Le sue geometrie, le sue linee sono diventati oggetti, già tappeti, già mobili, gioielli, tanto da dare nome ad una linea ideata dall'architetto Daniela Cavallo. In Sala Farinati, in civica, è stato presentato il bracciale, firmato e inciso dalle mani artigiane del gioielliere Ariel Garagori, in collaborazione con la gioielleria Scandola. L'idea è quella di far rivivere il territorio innovando i beni culturali e artistici, come appunto i disegni che dalla carta si trasformano in oro, dal passato arrivano ad oggi per essere indossati dai veronesi che tornano così a vestire le proprie radici.